Benvenuti o bentornati a un nuovo video, io sono Cina Biondo e questo è il Golgari, quindi nero-verde, che sta provando Mengu, Menguchi, in questo momento E qua, shish Sta facendo dei buoni risultati in ladder, attualmente dovrebbe essere più che 15-0, boh, credo E si basa su una carta che io, mi ricordo, quando iniziavi a giocare era bellissima Ovvero, oggi inizio a parlare da Pyrexian Obliterator 5-5 costo 4, con 4 mana specifici neri, quindi una carta che non è che si vede sempre Travolgere Ma la sua abilità passiva è, papà mia, una delle mie preferite Dice, quando una fonte di danno fa danno a Pyrexian Obliterator Il controllore di quella fonte dovrà sacrificare X permanenti pari al numero di danni che ha inflitto a Pyrexian Obliterator Quindi, se dovesse essere bloccato da un 3-3, sarebbero inflitti 3 danni E l'avversario dovrà sacrificare 3 permanenti, tra cui le terre Ma sto mazzo ha una combo devastante Ovvero Obliterator con Carnian Bush oppure Primal Might Che sono carte che fanno fightare, quindi combattere Pyrexian Obliterator con una creatura dell'avversario Visto che fightando la creatura dell'avversario infliggerà danni al nostro Pyrexian Obliterator L'avversario sarà costretto a sacrificare X permanenti Contro i max aggressivi è una roba incredibilmente forte Poi, c'è Elder Gargaroth Per non perdere mai da aggro, 6-6 a questo 5 Travolgere Reach, quindi raggiungere e cautela Quando attacca o quando blocca Noi potremo scegliere una di queste tre abilità Quindi, o fare 3-3, bestia O guadagnare 3 vite O pescare una carta La creatura verde Più efficiente del formato Forse da pauro Massacre Girl Stra-sinergica col mazzo In quanto non fa danno Perché fa Fa meno 1-1 E ogni volta che una creatura muore Rifà la sua abilità Quindi Se l'avversario è in campo Un 1-1 Un 2-2 Un 3-3 Moriranno tutte 3 In quanto la Meno 1-1 Distruggerà la 1-1 Dopodiché Se ci sarà un'altra trigger Ci sarà un'altra trigger Costa 5 Un 4-4 Con minacciare Minacciare non è mai male Poi Abbiamo il Calle Ambush Come abbiamo già detto Abbiamo un Rogue Che prende più 3-0 Quando l'avversario ha 8 o più carte Al suo cimitero Ha comunque Minacciare E comunque una terra Quando si gira Quindi non è male E poi non richiede Tanto mana specifico Quindi ci sta Come troppo a 3 Poi abbiamo Find Artisan Per cercarci il nostro Obliterator In quanto Lui prende più 1-1 Per ogni carta Nel nostro cimitero Per ogni carta creatura Nel nostro cimitero Poi possiamo Pagare 1 E x Tapparlo Sacrificare la creatura E cercare nel nostro Grimorio Una creatura Con costo di mana X o meno Mettela sul campo di battaglia E questa abilità Chiaramente può essere attivata Solo in stregoneria Poi c'è Scavenging Ouse Ovvero 2-2 costo 2 E con 1 verde Possiamo esiliare Quando vogliamo Una carta da un cimitero Bersaglio Quindi anche il nostro Se questa carta Che abbiamo esiliato È una creatura Prenderà più 1-1 Per sempre E guadagneremo una vita Abbiamo Paradise Druid Che ci permette di rampare 2-1 costo 2 Che rampa E attenzione Che ha X-Proof Quindi velo Intanto è stappata Poi abbiamo Fauna Shaman Un'altra carta Per cercarsi l'obliterator Infatti dice Scartiamo la creatura Dalla mano Cerchiamo Del nostro Grimorio Una carta creatura La riveliamo E la mettiamo in mano Poi Scaffoliamo il mazzo Un altro Prey Upon È un altro Fightino Per sfruttare al massimo Il nostro Appirex No obliterator E poi Il nostro Knight of the Immune Legion Che prende Più 3-3 Stappando 3 Death Touch Fino alla fine del turno Se l'avversario Ha perso 4 o più vite Questo turno Metteremo un segnalino Più 1-1 Su Sul nostro Cavaliere Attenzione Questo fatto di avere Death Touch È comunque sinergico Con tutte le carte Che ci fanno Fightare Quindi Poi Decide Abbiamo Come cosa Molto molto figa Carnage Tyrant Che è un 7-6 Costo 6 Trampo Lessproof Non può essere Counterato Per tutti i mazzi Control Bene Andiamo Questo mazzo È fantastico Poi Prima di iniziare Con le partite Come al solito Il gameplay È supportato Da Multiverse of Games Un negozio di Cesano Moderno Brianzolo Bellissimo Grandissimo Che aprirà A gennaio E Inoltre Vi comunico Che questo sabato Sarò presente Al main event Della Fanta Pro League Quindi seguitemi In streaming Non metterò delay Perché se mi sniperano Vi auguro Tanti saprolingi Sui piedi E L'ultima cosa Volevo dirvi Che giovedì Alle 6 Del pomeriggio Di sera Alle 6 di sera Farò La live Per Il lancio Di Caldheim Quindi Vi prego Di venire A No Vi prego Vi invito A venire A seguirmi Dai Ne discutiamo Insieme Ne parliamo Insieme Faccio un bel setup Dove si vede Anche la chat Così Sembra uno Streamer Vero Mi vesto pure bene Dai Metto la cravatta Una camicia Mi metto Questa la voglio tenere Cacchia rola C'ho Blitterator Might in mano Questo vi faccio Un bordello Faccio un casino Figa Stamano Faccio un casino Mi sa che è un control Questo Uh Leiline Uh Non so se voglio farglielo vedere o no Io faccio castello tappato Così posso essere anche sul tai Mono nero Control Ok Mi scappo Questa Ok Sicuramente Paradise Do it Faccio un altro Paradise Do it E night Ui La madonna Ma quello è forte Uh Un bash tappato Così il prossimo tour Lo posso fare Gli obliterator Into quest Spaccargli il board Eh Quello lo devo prendere Presi Oh Non te permettere Di farmi Ecco bravo Fammi le cose Bravo 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 Mica che casino Che gli faccio adesso A zero Tac Tac Vai Sacca 5 permanente Mi scelga lei Come rimanere in campo Oh 5 per 2 Mi sembra Bono Eh L'è Bono Come Come proporzione Mamma mia Sei fatta il push Ah Bloodthirst Va bene C'è la rimozione Dobbiamo anche le terre Uff Che campione Vabbè Io faccio le mie terrine Mi attaccherei Se mi durano un turno Il cerco Gargaroth Gigante 1 2 3 4 5 Si riesco a farlo Facco questa M Cerco Elder Gargaroth Oh Fare 6 6 Mi sembra Vorte Che me dici Mi oracle Concediamo Lui è stoico Però lo apprezzo Il suo stoicismo L'ho apprezzo No Voglio fare bestia Se mi fa extinction event Comunque me lo devi fare Fare o dispari Sei morto lo stesso Yes sir Mica questo mazzo Non esiste Spacca in due tutti Obliterator Troppo forte Per arti Ti invito a seguire Il mio canale Keep 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 Questa è una mano Questa è la Fastland Si Io mi confondo sempre Ragazzi Perché sono uguali Questa è Marsh L'altra Quella lì Che è la Checkland Sono uguali Identici Come disegno Ehi zi Ehi Ehi zi Ok Cos'è un mirror No mi fai l'emozione Mamma mia Che caratteraccio Che c'hai Vabbè io te l'ho tappata Passo Poi facciamo Fa una shaman Ah questa è pure una creatura Volendo Fa una shaman Terra tappata Lui comunque Con quei colori là Qualche creaturina Dovrebbe giocarla No Ok Mamma mia Ho anche fa una shaman Ah Isultai Isultai Ok Questo posso fare Quando voglio Mi piace Allora Sicuramente Terra tappata Artisano Oh Mi scarto fa una shaman Mi prendo Pirex No obliterator Oppure il gargarotto Adesso ci pensiamo Uh Ia shard Aspetta 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 To cast Spesso Ability Ok Quindi prima Facciamo così Lui si prende Due belle terrine Io se pesco Una bella terra Lo sparo Su marte Porca miseria Quasi Anche perchè Non avevo il nero Posso Comunque Attaccare Col fin D'artisan E cercare Di fregarlo Mi vado a prendere Tipo Gargarotto Ah Dovevo prendermi melma Ho sbagliato Ho sbagliato Qua dovevo prendermi melma Fare melma Rubarli uro Fare un bel board Dai fammi un bel Krasis 4-4 Oh yes Allora Allora Mi sarebbe piaciuto Fosse Fosse stato più grosso Ammetto ciò Però Va bene 5 terre Lui rimane con Gargarotto E basta Io faccio Il mio Gargarotto Magari Pesco Ah 6 terre Tutte le terre Se tolgo Va bene Lui dice Io vinco Gargarotto Pescando Anche C'è 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 Come linea Di pensiero Vabbè Che faccio Il mio Che devo Fa La terra Te la faccio Perché se Ti avessi avuto Removal Te l'avrei fatta Istantaneamente E tax Of blocks Quindi io Blocco E Pesco Anch'io Oh Basta Terra Che è Sta Cosa Only The Lance Mamma mia Come stiamo Pescando Qua Se Perdo Questo Game Metto A piangere Matteo Gerardi Voglio Un tuo Follow Se Perdo Questo Game Allora Facciamo Sicuramente Il nostro Find Che è Un 8 8 Brutto Non Mi Sembra Passiamo Tanto Non voglio Non voglio Fare niente Di strano Eh si Lui non sfaccia Perché vuole Cercare altre Terre Giustamente Eh zitto Ho slandato Mi spiace Bel mazzo Questo Allora Però tre Terre Ci sono Ho tenuto la mano Un po' Rischi Sì Questo è il mazzo Che voglio Beccare Ok Terra Tappata Go Non me lo fai Bella Madonna Aspetta Che questo È Trastappato Mmm Fa una Shaman Perché è Più Grotto Sembra Strano Che non Mi aveva Fatto Troppa Due O almeno Un altro Troppa Uno Che mano Hai tenuto Ah Eliod Ok Va bene Non guadagna Le vite Perché Ok Mmm Eh Non ho Rampini Quindi Mi tocca Farti Us Ah Cazzo Le vite Va bene No no Non attacco Non attacco Allora Qua mi serve Un bel Fightino Eh Trovaccio qua Su Eliod Così Sacco I 5 Permanenti Anzi Più Sono grossi Meglio è In realtà Quindi Qua Mio i belli Grossi Marca Vacca Marca Vacca No 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 blocks Chiaramente Allora Io te lo faccio Diciamo che se non è rimozione È un casino Eh Io blocco tutto Te lo giuro Eh però Lo dice Io mi stacco tutte le terre Eh Io blocco Quello più grosso Così ne stacca di più Penso che adesso Si spalmi un po' I danni Eh Cioè da spalmare I danni Proprio pezzi Postibili Magari Eh tu I counters Ma li devi mettere Eh Però Sono tanti Quelli che metti Uno Due Ai 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 Niente Niente Io nella mia Shell Delle creature Cosa posso avere Brutto Ah L'1-1 Con dead touch L'1-1 Con dead touch È molto forte Ma questo Non mi serve Veramente a nulla Ah ma lui Non è neanche Leggendario Fincazzi Ma che stiamo a D Ma di che stiamo parlando Pirexion Obliterator 2 Vai vai Guadagna le vite Un doppio blocco Se pesco una terra Faccio Pirexion Obliterator 3 Una creatura Scusate Ah lui fa i volanti Certo 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 Può pomparsi i volanti Oh Mi serve Una bella carta Che dice Faita Anche due Anche più di una Si può eh Eccola qua Cimitero Cimitero No vorrei farlo Da 1 Da 1 un po' poco Dai Almeno da 4 4 5 Da 5 Almeno non mi rompe Più il cazzo Quello lì Tanto sacrificami 4 permanenti E io te lo giro Ah perchè poi lo pompa Giusto Devo togliergli Linden Forse No Devo togliere Linden Ho sbagliato Meno goloso Devo essere Ah Così Così ti giro Lui Anche perchè Lui dice Faccio due giri di questo Però in realtà no Questo lo prendo Va bene Mh Perchè Se mi lascia scavenging Goose in campo Ah no Eh Ne fa un altro di volante Vero Vero anche questo Vero anche questo Ma io ho Altra roba figa Da prendere Uh Gargarotto Che c'ha rich A me sembra forte Attaccare con questo Non si sa mai Eh Rimuovo L'emozione Cose Anche se c'è Rimuovo Me lo fa Su Edda Gargarotto E vince lo stesso Eh Però Cerchiamo di limitare Le sue top Deccate forti Mamma mia Fa una shaman Mamma mia Fa una shaman Attacchi Attacca lo stesso Vedo Guadagnare le vite Per forza No Sì Non so se Non si è accorto Cosa Devo guadagnare le vite Perché se no Sono morto Ne ho pescato Un altro Sembra forte Vabbè Vabbè Tanto ne ho pescato Un altro So Che entra Life Andiamo a 6 Steng 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 Secondo me Con Pirex No Bliterator Lui ha saccato A caso Perché doveva Saccarsi Secondo me Tutte le terre E poi fare E poi fare Sempre Angelone Ogni turno Questa mano qua Un po' Mek Questa va bene Che togliamo Boom Facciamo fauna Shaman E speriamo Che non ci muoia Il board Grullo Grullo Va bene Grullo Grullo Io A me Mi hanno insegnato Bolt the bird No Mi hanno insegnato A fare Bolt the bird Quindi Il Mana d'orca 1 Se potete E' quasi sempre Da spaccare Forse Gli unici casi E' che facciate Delle rimozioni Poco Poco efficienti Però in generale Si deve sempre Togliere Ok Allora Ti faccio Rogue Se no Io avrei fatto Forse era da fare Shaman Però ho paura Che non mi Duri un altro Non mi duri Un turno Shaman Quindi Sicurezza Faccio un po' I cazzi miei No Immaginavo Che non Eh Non tanto C'ha mena Ti prego Non morire Ti prego Non morire Fa una Shaman Prendo No blocks Saturina Perfetto Questa via Ah Ah Quando vuoi attacca Prego Attacchi pure Farmi rimozione Accetto la rimozione Vuoi farmi sparare i due botti Accetto che gli spari i due botti Che famo qua Uh Faitino Peccato Attaccherei comunque con questo Allora La può vincere comunque di Ember Però Ember Cleave Su quello lì Non può farmelo Almeno gli spacco un 3-2 Ah giusto che quello si pompa Mi tengo una carta in mano Per Provare a A fintargli una rimozione Che non ho Allora Qua Mi serve Prey Oppure Primal Might Ok 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 Puoi farmi tutte le bestie che vuoi Clotisso forte Clotisso è forte Può essere un problema Clotisso Però non penso Attacchi no Magari mi attacchi solo Col Gruul Io ti blocco Si pompa il pezzo Una mossa di merda Ho provato Eh che cazzo Ah potrei anche pescare Una creatura qualsiasi Così faccio un bel Elder Gargaroth Così mi sento bello Tra Ho un altro Pirex Obliterator Così mi lasciallo un po' Più Gargaroth Che Obliterator Forse un altro Obliterator Vabbè Voglio sicuramente Primal Might Ti vratto board E ti vratto board Bello così E fallo Sto 4-3 Eh non lo so Se è più bello lui O Il Gargaroth Però Gargaroth Mi fa guadagnare le vite Lui non mi fa morire Lo togli Previsco a fare Gargaroth Aspetta Oh Oh era forte anche Massacre Girl Eh Però mi fa schifo Che mi tolga Anche il mio Poi Clotis Non glielo tolgo Quindi No dai Meglio Gargaroth Tombani Parca vacca Per uccidonte È forte Eh Qua Mi serve sempre la stessa carta Sì sì È la 9 Non sono agile Per niente Però tu non guadagni le vite Va bene Sta pensando Se sono letali O no Mi sa di sì Perché non posso guadagnare le vite Eh Ho perso Tu blocca qua Questo Blocco qua Quanti danni sono Ah Che Sfighe Eh c'era Un po' Al che non ho Eh ho pescatto tante terre Ma capita Capita Questa la metto Perché comunque Era giocata Se tiene Io tengo di brutto Sto mano Troppo entrano tappate Con le terre lì La Madonna Toxiz BRB Sarà arcanista No Eh Us è brutta Contro di te Io Eh Non so Us è proprio La più brutta Contro di te Penso Non voglio fargli vedere La carta che ho pescato Tanto la posso fare Stappata Quando voglio Tiro monster Va bene Io Acceleriamo Poi facciamo Fauna shaman In Tuffy and Artisan E poi facciamo Prehexano Breederator L'intoccabile Village rights Addirittura Stai saltando Land drop Molto bene E allora io Ne faccio due Di fauna shaman Non una Ma ben due Perché mi posso togliere pure questo Oh Shade Opta Grixis Ah poverino Vabbè Si era un po' Screwout Si era un po' Inchiodato di terra E' fatto top Spero che hai messo una terra No Ah ecco Oh Bella questa motta Va bene Io mi tolgo Questo Te presento L'intoccabile Ma io ti attacco pure Vuoi bloccare? Blocca Tanto io Quello che dovevo prendere L'ho preso Non so Extinction event Inizio Giochi gli ampi romanze Anche extinction event Anche le vratte Sembra strano eh Penso che giocherai Blu per qualche Bounce Oppure per Nicola Nicola forte Nicola Vuoi farlo diventare Un 4-1 Attaccarci? Buono L'è buono Se lo fai Ah Minchia Si Gatestorm Baller Oh Che fai Mi scombi Lei mi scomba Che brutto Z Ah Lo copia Per togliermi Due di quelli Vabbè Io questo Te lo giro E questo Te lo giro Te faccio Artisan Artisan 5-5-5-5 Tarmogoyf Tarmopod Come lo chiamavo io Tarmopod Arcanista Come dice Jack Torrance Arcanista Ah Prendere Emozione Vabbè Ci sta Poi comunque Muore da Friand Artisan Però vabbè Arcanista L'hai fatto Z L'hai Fatto Allora Sto mazzo Da Pensandoci bene Questo mazzo Da Obliterator Non ci muore Tanto Questo Te lo sparo Qua Tanto Ti togli Due Token Allora Se mi blocca Uno e due Passano Cinque Eh vabbè Ti vratto Il board Forse Con questo Non devo Però Ti vratto Comunque Il board Dai Questo Di Un 7 7 Cosa c'ha Doppia Removal Extinction Event In un mazzo Pieno di Creature Claim Ok Ok Village Rites Go 3 Spero che vi sia piaciuto il mazzo Molto divertente Mi sto divertendo veramente tanto Infatti ne ho fatte anche tantissime altre off stream Il mazzo è di mengu Secondo me In best of 3 Se becca il meta giusto È devastante Se lasciate un obliterator Contro goblin E lo fate fightare contro un 2-2 Già lo mandate su marte Contro alcanista Figurati Se non te lo toglie Ci muore E Poi subito Cioè Magari lo puoi fare anche in un turno In cui puoi fare Sì a lui che prei Quindi Tanta roba Forse altri matchup Belli Aure Se non Se non fa Quello che dà protezione Aure Contro Aure è buono Però è dura È grindi Contro Stultai Oh Adesso Nella shell che giocano adesso Ci sono molte poche rimozioni Per Pre-Axon Obliterator Etergast non gli fa niente Telsend non gli fa niente Perché non è leggendario Se per sbaglio Non succede Ma se succede Che entra E l'oppo ha fatto tipo Una nissa turno 5 Fallo fightare Con un 3-3 Toglie lì 3 terre Secondo me Devastante Come avete visto Anche Tra i video No Poi vi ricordo Che Giovedì Sì Giovedì Faccio la live Su canale Viola Sul canale Viola Alle 6 del pomeriggio Questo giovedì Quindi è il 7 701 Dopo la Befana Per la presentazione Di Caldheim Quindi la guardiamo in diretta Faccio un bel setup Poi Sabato farò il main event La Fanta Pro League Dove vi invito Per chi vuole A iscriversi A tornei Side event Per qualificarsi Al main event Dove potete giocare Contro Streamer Creator E pro del passato Molto divertente Bei premi Quindi Biga male Bene Se vi è piaciuto il video Mettete like Commentate come direte Iscrivetevi al canale Ci vediamo la prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi